L'approccio importante della gara, abbiamo fatto molto bene l'inizio e poi, come ci capita, abbiamo abbassato un pochino la tensione. Credevamo che la partita fosse finita dopo 20-25 minuti, invece non era finita. Nel secondo tempo ci siamo rimessi a fare le cosette nostre, siamo molto felici di quello che abbiamo visto oggi. Dobbiamo migliorare quei piccoli aspetti di cali di tensione che abbiamo, ma oggi abbiamo fatto un calcio importante.